E' stato girato all'alba nel Principato di Monaco le Grand Rendezvous, il cortometraggio diretto da Claude Lelluche nel giorno in cui era in programma il Gran Premio di Formula 1. Le telecamere del regista francese hanno seguito da vicino la Ferrari SF90 stradale in un giro adrenalinico lungo lo stesso percorso del GP, guidata da Charles Leclerc fino a 240 km l'ora per arrivare ad un misterioso grande appuntamento. Al cortometraggio ha partecipato in via eccezionale sua altezza serenissima Alberto II di Monaco. Erano presenti inoltre il presidente di Ferrari John Elkan, i principi Andrea e Pierre Casiraghi con la moglie di quest'ultimo la principessa Beatrice Borromeo, oltre ad un pubblico che grazie al progressivo allentamento delle misure di lockdown, ha seguito le riprese da strade e balconi con l'attenta supervisione delle autorità locali. Il suono della SF90 stradale nelle strade del Principato, dove il traffico è stato sospeso per consentire di liberare il potenziale di una vettura che raggiunge i 100 km l'ora in 2,5 secondi, ha interrotto la lunga attesa di tifosi appassionati del cavallino rampante. Il rombo del motore V8 ibrido, capace di sprigionare una potenza complessiva di 1000 CV, è stato soprattutto un messaggio di ottimismo e un primo segnale di ripartenza per il motorsport. Il cinema e la vita sociale, nella speranza di superare la pandemia grazie al comportamento responsabile, all'impegno e alla solidarietà di tutti. La presentazione del cortometraggio è prevista per il prossimo 13 giugno.